Cari amici Tecnocino, siamo qui a IFA 2013 Berlino con il nuovo Samsung Galaxy Note 3. Eccolo nella sua custodia. È stato appena presentato la società sulcoreana nella preview prima del congresso. La scheda tecnica include uno schermo con diagonale 5.7 pollici, ossia 144.3 mm, Full HD, di natura Super AMOLED HD, con capacità multi-window. La scheda tecnica include un performante processore quad-core da 2.3 GHz, accompagnato da 3 GB di RAM, che è una primizia. C'è una memoria espandibile fino a 64 GB attraverso slot microSD. Il sistema operativo è Android, la versione 4.3 Jelly Bean. C'è una fotocamera sul retro da 13 megapixel con autofocus e una videocamera frontale da 2 megapixel. Il resto della scheda include una batteria da 3.200 mAh, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.0, chip NFC. Le dimensioni sono di 151 x 79.2 x 8.3 mm di spessore. Il peso di 168 grammi. Note 3 è dotato anche di un nuovo pennino con nuove funzionalità ed è in grado anche di videoregistrare in formato 4x HD. Interessante questa custodia, chiudendola si può aprire una sorta di finestra con accesso rapido a funzionalità, con ad esempio la fotocamera, action memo e la riproduzione musicale. Per quanto riguarda l'estetica, il fronte è dominato lo schermo touchscreen, troviamo l'altoparlante e i vari sensori, la fotocamera anteriore, il pulsante fisico hardware sul fronte, il bilanciere per volume e zoom, il pulsante on-off e stand-by, il jack da 3.5 mm, ovviamente la fotocamera con flash, l'alloggiamento per il pennino S-Pen e il jack e l'ingresso microUSB. Grazie a tutti.